Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto Se a giocare non si caltro è un bre, matalo, matalo Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e vi porto una nuova informazione Non so quanti di voi lo sapranno, ma sono già disponibili delle nuove care stunt Allora, come sapete, il creatore di care stunt uscirà il 2 agosto Ma è uscita una versione beta di cui alcuni utenti possono incluire Non capisco perché alcuni e altri no Comunque ce ne frega un cazzo Tanto Roxara fa sempre cosa cazzi sua E quindi niente, alcuni eventi come vi ho già detto Stanno creando delle care stunt che possiamo trovare nel social club Come avete visto io stavo aggiungendo questo tipo di care Penso di fare una piccola live su qualche nuova care stunt E potrete anche aggiungerle voi queste nuove care, perché no Allora, per aggiungere queste nuove care stunt ragazzi che state vedendo Dovete andare nel social club Dovete cercare le attività ragazzi Adesso ve lo faccio vedere da capo Come dovete fare e tutti quanti i passaggi Perché se voi andate nel social club E cercate le gare stunt Vi dà le gare standard Quello che sono di Rockstar Le gare stunt create da Rockstar Allora, per risolvere questa cosa Dovete fare gli stessi passaggi che faccio io nel video ragazzi Andate a filtri Andate a tipo di attività e cercate una gara Cercate non una gara Cercate gara ragazzi Dovete piggiare su gara come state vedendo Poi andate a modalità E dovete mettere la modalità di gara che volete trovare In questo caso una gara stunt E poi dovete mettere Creata da utenti del social club Ovviamente In questo modo vi troverà tutte le gare stunt Create da utenti del social club Quindi andate a cerca Cliccate sul tastino Cerca E andiamo a cercare le gare che Che gli utenti hanno creato O meglio Andiamo a trovare le gare Che gli utenti hanno creato Anche perché alcuni di voi già se saranno rotti il cazzo Dei farsi sempre le soliti 16 gare Quindi qui ragazzi c'è una Basta scelta di gare Da provare insomma Da andare a vedere Io ne ho provata una giusta per vedere E speriamo che Diciamo tutte le altre che ho scaricate Non mi deludano Adesso andrò a provarle Non so se farò una piccola rade Cioè detto di sì Però Non vediamo Se la faccio Comunque come state vedendo Cliccate sulla gara E andate ad aggiungere la gara Ragazzi Niente di più semplice Come si fa per tutte le gare Per questo video è tutto Un saluto da Maxi Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti